Con la vittoria nella prima guerra punica Roma si confrontava con uno spazio politico e territoriale diverso dall'Italia. Proprio per questo decise di affidare l'amministrazione di territori tanto distanti a magistrati romani chiamati governatori. Per tutta l'epoca repubblicana questo incarico fu generalmente affidato ai consoli o ai pretori che avevano appena concluso il loro mandato e che venivano inviati nelle province con il titolo di proconsoli o proprietori. Essi rimanevano in carica per un anno ma il mandato spesso era prorogato e avevano il compito di governare la provincia loro assegnata in nome di Roma. Il potere dei governatori era di tipo militare poiché comandavano le truppe romane stanziate in ogni provincia. Fiscale poiché avevano il compito di appaltare la riscossione dei tributi civile dal momento che erano responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico giudiziario in quanto spettava a loro giudicare i reati maggiori e tutti quelli in cui fosse coinvolto un cittadino romano. Il governatore godeva di fatto di un potere amplissimo perché sottoposto a scarso controllo. Doveva sì rendere conto al Senato delle proprie azioni ma soprattutto riguardo alla sicurezza della provincia e a eventuali iniziative militari. Inoltre la carica di governatore non era collegiale quindi non era sottoposta al potere di veto tra colleghi che valeva per i magistrati in Italia. Per ragioni di convenienza politica e per governare con minori difficoltà territori assai eterogenei Roma riconobbe un buon livello di autonomia agli abitanti delle province sia sul piano amministrativo sia in ambito culturale e religioso consentendo loro di conservare tradizioni e culti propri. Il territorio delle province era però considerato per diritto di conquista proprietà di Roma. Essa si riservava quindi la facoltà di sfruttarlo a suo piacimento. Una parte delle terre annesse ad esempio veniva espropriata e diventava ager publicus cioè dello Stato che poi la concedeva in affitto a cittadini romani o ad abitanti delle province dietro il pagamento di un canone. I provinciali inoltre non erano ritenuti cittadini romani ma sudditi stranieri dello Stato romano. Pertanto essi erano sottoposti a una pesante passazione.